Il primo tempo della semifinale di Europa League va alla Roma, un gol di Edoardo Bove regala la vittoria alla formazione di Murigno e la prima sconfitta in trasferta dell'Europa League per la formazione di Xavi Alonso che fino a questo momento tra gli spareggi, l'ottavi e i quarti aveva sempre vinto in trasferta, invece questa volta non solo non ha vinto, non ha neanche segnato e ha perso 1-0. Era una partita anche di grande sofferenza da parte della Roma, all'inizio horror della squadra di Murigno con due occasioni clamorose regalate alla formazione di Xavi Alonso, poi piano piano la Roma è per fortuna riuscita a prendere un po' le misure dopo il pericolo scampato e ha tenuto in equilibrio la partita in tutto il primo tempo con un risultato che poi alla fine era giusto, perché la Roma ha avuto anche una clamorosa opportunità con i bagnati di testa con il portiere Radeschi che ha fatto un vero e proprio miracolo su un calcio d'angolo battuto appunto dalla Roma. Nel secondo tempo le cose sono andate anche meglio, Abram stesso che si era visto ben poco nel primo tempo, ha fatto qualcosa in più e poi da un suo tiro è nato il gol del vantaggio della Roma, il tiro respinto dal portiere del Bayer Leverkusen e il gol di Bove che ha dato veramente tutto e di più, un giocatore che me l'aspettavo comunque potesse giocare più avanzato perché è quello che ha più gamba nel centrocampo della Roma, che non è certamente dinamico e quindi lui era quello che si poteva comunque inserire di più nell'area di rigore avversaria, dando invece la possibilità a Matic di giocare più arretrato e quindi di schermare il più possibile la difesa. Dopo il gol è inevitabile, insomma la Roma negli ultimi minuti abbia un po' sofferto, abbiamo tremato su un'uscita dove lì non ha chiamato neanche il pallone, probabilmente Rui Patrizio in uno scontro con i bagnati che devo dire ha giocato anche, ha fatto comunque una buona partita, ma insomma le cose sono andate bene, è stato bravo anche Cristante a salvare il gol proprio sulla linea. E andiamo tra una settimana in Germania con il vantaggio di un gol e questo è assolutamente importante, visto come si erano messe comunque le cose, visto la difficoltà a giocare contro una squadra che fa del dinamismo non solo, ma anche del palleggio un po' l'arma migliore. La Roma veramente con i cerotti, con il fiatone sta veramente dando il tutto, di tutto e di più, tutto quello che hanno a disposizione. L'ultimo quarto tour è entrato anche Di Bale, è entrato anche Wijnaldum, quindi sicuramente avremo la possibilità di vederli nella prossima trasferta, tra una settimana, dove ci giocheremo l'accesso alla finale. È chiaro che adesso è una gara quella contro il Bologna in campionato, vedremo molte seconde linee a cominciare da Solbaken. È chiaro ed è inevitabile che la mente adesso è rivolta tutta alla gara di ritorno contro il Bayer Leverkusen. Bisogna cercare di sfruttare al massimo il vantaggio di un gol e sperare naturalmente che stiano tutti bene, che qualcuno possa essere recuperato, un qualche minutaggio in più di Bala in primis e chissà, ha anche la possibilità di poter recuperare, vedremo, anche Smalling. Comunque la cosa fondamentale è aver vinto comunque la partita questa sera e andare in Germania con il vantaggio. Un abbraccio a tutti quanti voi, sempre, sempre, sempre. Forza Roma, forza Roma, forza Roma.